Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika e oggi un nuovo video make up di proviamo novità Novità e prodotti nuovi che non ho mai testato prima, quindi vediamo questa quasi full face, se non proprio full face di appunto novità make up beauty Ho racchiuso tutto all'interno di questa scatola di Kylie Cosmetics perché ho fatto appunto un ordine e quindi vedremo anche le ultime novità di Kylie Cosmetics e qui ho racchiuso tutto Detto questo prima di iniziare a lasciare un video, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti quanti i link, le colorazioni tutto giù in descrizione, tutti i prodotti in ordine come sempre, tutto l'elenco e mi potete trovare su Instagram come Rederic e su TikTok come Erika Notarangelo con due o finali e su TikTok faccio quasi ogni giorno le live, quindi se volete venire a vedere in diretta i prodotti make up perché utilizzo questi prodotti appunto nelle live e faccio scegliere anche a voi cosa andare ad utilizzare quindi andatemi a sbirciare anche un po' su TikTok per vedere se vi interessano appunto i contenuti Detto questo prima di iniziare a lasciare il video, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un piccolo like e mi trovate anche su Instagram come Rederic, iniziamo! Se sentite questi rumori sottofondo è perché uno fa caldissimo e il condizionatore è rotto quindi per forza le finestre devono essere aperte e qui praticamente intorno a me siamo ancora a cantiere aperto e quindi stanno facendo i lavori quindi ignorate palesemente questi rumori sottofondo e concentratevi su di me e sui prodotti Allora iniziamo subitissimo, fa caldo sì ma ho una bella full face ricca e iniziamo a metterci ovviamente le mollettine dato che ho il top lilla andiamo di queste per bloccare i capelli queste comunque mollettine sono fenomenali, sono bellissime e aiutano un sacco a fermare i capelli Oggi ho anche da testare un nuovo fondotinta in realtà l'ho già provato, ho applicato un paio di volte sempre in live su TikTok ma prima del fondotinta andiamo di primer questo è un nuovo primer di Essence, il Fix & Last l'ho già provato appunto una volta solo ovviamente queste sono quasi tutte prime impressioni e bisogna aspettare appunto provarle con il tempo e vedere che effetto fanno anche provarle singolarmente con prodotti che utilizzo quotidianamente e quindi so già la loro resa e concentrarmi solo sul nuovo prodotto quindi se volete anche informazioni di questo tipo cioè nell'arco del tempo perché ovviamente li andrò a testare man mano come performano, quanto durano eccetera magari anche l'accoppiata migliore primer qual è il miglior fondotinta con questo primer un esempio scrivetemelo giù nei commenti così che vi posso aiutare e quindi rispondere per qualsiasi domanda ovviamente mi potete scrivere sia nei commenti che su TikTok perché molti di voi mi scrivono su TikTok per chiedere appunto consigli non su TikTok, su Instagram per chiedermi appunto consigli e vi ringrazio molto questo dicono che sia il dupe del primer di Milk quello azzurrino verde acqua che fa praticamente da grip un po' lo sento questo grip credo si riesca anche a vedere dal video e questo fa sì che il fondotinta al di sopra resista di più, si aggrappa meglio appunto alla pelle per quanto riguarda il fondotinta andiamo di questo prodotto questo fondo che in realtà sarà uscito da un annetto io però non l'ho mai provato dopo aver provato quello di Nars che vi lascio qui il video delle novità in cui ho provato tantissime novità anche lì full face ho provato anche appunto il fondo di Nars volevo provare questo di Armani perché molti amano entrambi e quindi ho detto chissà io il fondotinta non lo uso quasi mai ne vado ad applicare poco alla volta appunto sul viso ok ne esce un casino e molti dato che hanno detto che quello di Nars e questo sono molto simili ho voluto provare anch'io ho tutto sporcato il pack come dicevo i fondi non li vado quasi mai ad applicare ok forse può sembrare un po' chiarina perché mi sono abbronzata però vediamo un po' se ossido o meno perché sinceramente non me lo ricordo io non uso solitamente il fondotinta ma ho pensato magari mi servono dei fondotinta che so che durano non esistono per delle occasioni speciali perché ad esempio sono andata ad un matrimonio il mese scorso e quindi per avere la pelle più uniformata ho applicato anche il fondo e ci siamo preparati insieme sia makeup, capelli, tutto letteralmente giorni prima, le cose da fare per la preparazione di un matrimonio e vi lascio qui il vlog vi faccio vedere anche i prodotti utilizzati del makeup che sono rimasti lì fissi sul mio viso per tutto il giorno della mattina alla sera fino alla fine del matrimonio appunto stendete bene sia sulle orecchie sia sotto il collo che appunto sulla fronte ovunque e vediamo se anche questo fondotinta è resistente al calore al sudore a tutto per questo caldo prima impressione sinceramente meglio rispetto all'altra volta che l'ho utilizzato magari ne ho applicato un po' meno magari il primer non lo so perché l'altra volta era un po' più evidente invece questa volta per niente zero solo un po' sul naso magari sul naso fa sempre un po' fatica però andiamo a stendere per bene ora passiamo finalmente a una cosa che ho desiderato tantissimo ero indeciso in realtà se prendere questa o quella diciamo originale ovvero sto parlando della palette di Kylie Cosmetics che è questa qui e di quella originale intendevo quella di Makeup by Mario dato che Makeup by Mario deve arrivare in Italia da Sephora io ordinavo prodotti di Makeup by Mario da Fidunique cosa che si può fare non si fa pagato da dogana e anzi ho anche il 10% di sconto dalla fine ho deciso di prendere questa perché quella di Makeup by Mario è un po' più costosina e ho fatto un ordine appunto da Kylie Cosmetics anche qui potete ordinare dal suo sito direttamente io non ordino da Douglas perché i prezzi sono più alti e arrivano dopo le novità infatti questa palette non c'è ancora disponibile a meno che non la mettono quando ricarico il video appunto ho voluto prendere questa palette perché mi piacciono tantissimo i colori all'interno perché non è troppo calda né troppo fredda andiamola ad aprire però prima nell'ordine dopo vedremo altri prodotti che ho acquistato gratuitamente perché ho superato una certa soglia mi è arrivato anche questo cappellino questo berretto con visiera di Kylie Skin mi piace tanto e questo rosa bellissimo e niente può essere utile appunto per la spiaggia semplice bello carino apprezzato passiamo dunque alla palettina che questa qui si chiama la The Classic Matte Palette cioè è una palette di soli colori ovviamente nude e marroncini sia caldi che freddi neutri e non ci sono shimmer solo opachi allora prima di aprirla ho fatto già l'unboxing e vi anticipo tutto come sempre prima su TikTok quindi andatemi a seguire su TikTok se siete curiosi appunto delle novità di tutto insomma appunto per vederli prima rispetto a qui su YouTube e in più su TikTok ho già pubblicato due video ovvero il primo video in cui la utilizzo la proviamo insieme però ovviamente TikTok è un contenuto molto veloce il video invece qui su YouTube l'andiamo ad approfondire per bene e ho anche già pubblicato un altro contenuto dei prossimi prodotti che poi vedremo insieme alla continua appunto di questo video vi posso dare anche le prime impressioni questa è la palettina bianca semplice come ho detto somiglia tantissimo a quella di Makeup Be Mario e questo è l'interno allora come specchio ovviamente qui c'è e c'è la pellicola sinceramente non so se voglio andarla a togliere o meno non ho idea e questi sono i colori sono bellissimi la palette proprio è bellissima mi piace perché non è cheap come plastica niente ha un paio di 12 mesi e queste appunto sono le colorazioni mi piacciono tantissimo diciamo l'unico colore che proprio non mi convince è amber perché è super caldo invece gli altri sono bellissimi c'è ad esempio mi ha colpito tantissimo e mi ha convinto a prenderla questo colore che è shadow perché è un marroncino tendente al grigio quindi un marrone freddo chiaro perfetto per la transizione da applicarlo così sulla palpebra in tantissimi modi comunque andiamo a testare ora vi faccio vedere il look che io farei appunto che ho fatto già e che farò quando utilizzerò questa palette e poi la cosa bella è che è molto versatile perché essendo diciamo colori base che vanno bene su tutto si possono indossare sia da soli ma anche appunto come base e poi andate a prendere un'altra palette anche solo di glitter di shimmer e ci fate un look pazzesco anche con delle matite colorate la potete aggiungere ad altri prodotti oppure utilizzare solo questa oggi andremo ad utilizzare solo questa noi iniziamo da shadow vado ad utilizzare un altro specchietto perché non voglio togliere sinceramente la plastica di qui prima però vado ad applicare un attimo il mio solito primer per gli occhi che utilizzo sempre che è questo di Moolax spolverano leggermente in cialda e con shadow vado nella parte più esterna a creare appunto quest'ombra una cosa che ho notato di questi ombretti che sono pigmentati burrosi ma si sfumano in due secondi e durano per quando l'ho utilizzato e faceva pure veramente caldo mi sono durati assolutamente in modo perfetto questi ombretti sono anche stratificabili e si ponono tra di loro i colori e sono stupendi quando appunto andate ad applicare più colori ora lo vedremo insieme vado ora con un pennellino più preciso e vado a prendere il colore più scuro che è questo nero che non sembra molto nero e profondo in cialda si chiama Sable ma guardate sull'occhio quanto è bello vado a fare proprio la linea delle liner perché andiamo a fare uno liner sfumato non vi preoccupate ora se non siete precisi perché appunto andremo a sfumare il tutto e vado a prendere chocolate per andare a sfumare la parte superiore appunto delle liner creato una cosa che ho notato appunto per quanto riguarda il fatto di fare fallout in cialda alcuni colori lo fanno di più di altri ad esempio shadow no ma chocolate si symbol no ma ad esempio se non ricordo male nude si che è questo qui quindi dipende anche un po' dal colore utilizzato e vado anche fino alla rimaciliare nella parte interna guardate in due secondi si è già sfumato l'eyeliner andiamo ora a prendere questo nude e andiamo nella piega qui iniziale e a metà andiamo ad intensificare questa parte perché poi voglio fare una specie di cut crease ma non definita non delineata ma con appunto l'ombretto e anche con questo nude andiamo a prenderne un po' e andiamo nella parte qui più esterna sempre per sfumare appunto questo eyeliner pennellino ora piatto e andiamo a prendere natural e come dicevo prima l'andiamo ad applicare sulla palpebra fissa in modo da creare questa cut crease perché così facendo andiamo ad illuminare l'occhio e sembrerà dunque quindi così più allungato rispetto appunto a dove non l'abbiamo fatto guarda la differenza non so se avete notato quanto siano pigmentati ne prendo veramente pochissimo e poi si sfumano anche bene non fanno fallout sul viso ma leggermente in cialda andiamo a riprendere il pennellino di prima senza andare a prendere altro prodotto e andiamo a sfumare appunto i bordi di questa cut crease prima di concludere gli occhi e finire appunto il make up con questa palette andiamo a continuare a fare la base per la base di contour e blush ho diversi prodotti passiamo anzi partiamo prima dal bronzer e vorrei andare ad applicare questo qui di Real Beauty perché qui su youtube non l'ho ancora fatto vedere in azione ma su tiktok si quindi se volete andatemi a seguire lì oltre a questo però ho questi altri due prodotti che mi potreste dire ma sono identici e in realtà no perché qui abbiamo l'Hollywood contour wand di Charlotte Tilbury nella colorazione medium deep e qui abbiamo il suo dupe trovato da Temu che è appunto un'applicazione e ho trovato questo dupe questo è il beauty light wand questa dovrebbe essere un'unica colorazione su tiktok l'ho già provato sia questo che il blush perché del blush abbiamo questi tre prodotti questi due che sono di Charlotte blush versione matt e versione illuminante colorazione pink pillow talk pink pop e invece qui abbiamo pink gasm e invece il dupe diciamo di questo matt è sempre questo dello stesso brand di prima e si chiama il beauty light glue nella colorazione numero 3 che è appunto quella più similare a quelli che stavano appunto su Temu detto che questi due prodotti però li ho fatti già vedere in azione su tiktok andateli a vedere lì invece oggi andiamo proprio di rare beauty questo è lo stick appunto di rare beauty ce l'ho nella colorazione birthside che è una delle nuove colorazioni prima erano solo 5 ora sono state aggiunte altre 4 se non sbaglio e questa è quella più fredda tra tutte che è appunto birthside di rare beauty non ci sono colorazioni fredde ma ci sono colorazioni meno calde e questa è quella meno calda voglio andare a provare la differenza di applicazione da una parte lo vado a mettere direttamente così sul viso l'ho già provato anche diverse volte credo si riesca appunto a vedere e lo andiamo a stendere si sfuma velocemente come potete vedere poi essendo estate aiuta anche il calore ovviamente della temperatura e andiamo anche qui sulla fronte a fare la stessa cosa invece da quest'altra parte del viso lo voglio andare ad applicare prendendolo prelevandolo direttamente dal pack quindi vado con il pennellino in questo modo così facendo riguardo tutti i prodotti non solo di questo di rare beauty si va a sfumare meglio il prodotto senza che si facciano strisciate o meno e lo si va a picchiettare nella zona interessata potete vedere come magari rispetto anche a questa parte qui si vede questo prodotto non lo fa vedere però si vede che comunque è più diffusa la sfumatura e ovviamente andiamo anche sulla fronte a fare la stessa cosa con il residuo vado anche un po' qui sotto giusto per delineare meglio la mia mandibola e leggermente sul naso anche questo mi piace tantissimo non vedo l'ora anche di provarlo in realtà è d'inverno voglio vedere come si comporta per il blush oltre che con le due alternative che ho fatto vedere prima abbiamo anche questa novità di Catrice che è del libro della giungla vado ad applicare questo però non solo questo ecco andiamo ad applicare anche questo di Charlotte che se non sbaglio non l'ho fatto vedere neanche qui su youtube vado prima con questo di Charlotte nella parte alta dello zigomo non vado a far uscire troppo prodotto perché sono super pigmentati e vado nella parte alta e vado subito a sfumare perché poi si fissa perché andiamo ad applicare poi quello di Catrice diciamo nella parte qui proprio della guanciotta vado a fare questo degradé questi di Charlotte si fissano sono matte ma lasciano comunque una luminosità naturale data dalla pelle dalla vostra pelle non da nessuna particella luminosa nel prodotto durano tantissimo e sono comodi anche per i viaggi andiamo ora di questo di Catrice questa è la colorazione se la riesco a trovare ve la dico la 010 Anne Elephant credo sia questa la colorazione sembrano quelli appunto tipo di Chiara Ferragni e una volta che le vado ad applicare mi piace tanto la colorazione perché è molto naturale ne potete applicare tantissimo perché appunto molto naturale l'unica cosa forse per questo fa sì che se ne vada più velocemente rispetto agli altri blush che ho è che è più cremoso anche quando lo andate a stendere è più che cremoso tipo burroso lascia questa patina un po' leggermente anche appiccicaticcia che forse può essere buono per fare da base ad un blush in polvere quindi salite dopo con un blush in polvere ad applicarlo al di sopra magari può aiutare appunto a far rimanere di più invece se lo lasciate da solo un po' tende a togliersi e lo vedremo anche nel corso della giornata di oggi non ho niente di illuminante ma non lo voglio andare neanche ad applicare oggi e passiamo al correttore per il correttore altra novità low cost si parla di essence e questo è il multitask concealer questa è la colorazione 05 cool porcelain la più chiara tra tutte ed è uno di quei correttori a penna allora questo l'ho già provato più e più volte ma devo dire che entra nei bocciati questo perché andiamo a me non dà fastidio assolutamente questo applicatore faccio uscire un po' il prodotto e lo vado ad applicare solitamente nei punti appunto dove vado con il correttore va nei bocciati perché si fissa in fretta è matt e non si sfuma molto magari può andar bene a chi ha una pelle grassa perché è assolutamente super matt come potete vedere lo sto andando a sfumare velocemente ma il problema è che non mi piace neanche proprio l'effetto finale sembra che resti un po' in superficie secondo me è proprio per la tipologia di pelle che non va bene questo correttore è solo per chi ha pelle mista o grassa perché poi essendo molto matt va a segnare le zone vi fa vedere tutte le pellicine se avete la pelle secca ho applicato un po' di cipra solo dove ho applicato il correttore e ora continuiamo con gli occhi terminiamo gli occhi e quindi con la palette anche di Kylie prendendo il colore base che è appunto il colore più chiaro per andare nell'angolo interno dell'occhio io vado direttamente con il mio dito ne prelevo un po' l'ho proprio sfiorata la cialda e l'ho picchietto nell'angolo interno dell'occhio ora magari non si vede molto la differenza perché il correttore che ho applicato prima era super chiaro e mi sono un po' abbronzata però è bellissimo l'avevo provato qualche giorno fa ed era spettacolare appunto si vedeva molto non con questo correttore ma con un altro si vedeva molto anche la differenza però comunque va ad illuminare andiamo a riprendere il pennellino di prima andiamo a prendere sempre il colore nero e vado a delineare solo la linea inferiore dell'eliner e andiamo sempre con lo stesso pennellino nell'angolo interno dell'occhio a fare la righetta di eyeliner sempre voi magari mi starete chiedendo ma resiste appunto questo nero nell'angolo interno dell'occhio solo di ombretto senza matita come base senza eyeliner senza niente vi dico di sì lo vedremo anche oggi insieme a fine del video vi metto sia la clip di ora appena finito il prodotto di makeup e poi stasera quando torno a casa per ora 10 su 10 questa palettina passiamo ora ad un prodotto anche questo preso da Temu che è questo qui è un mascara non vi so dire il brand forse si chiama Suake è un mascara marrone perché non ho un mascara marrone l'ho voluto prendere e questo è il pack primario è strano perché è allo scovolino piccolissimo ed è un mascara per le ciglia e non per le sopracciglia e quindi sono super super curiosa di vedere qual è l'effetto voglio vedere anche un occhio con ciglia piegate e l'altro occhio senza ciglia piegate qui andiamo di senza ciglia piegate e dall'altra parte con le ciglia piegate mi sono un po' sporcata sulla palpebra poi andremo a pulire questa e solo con una passata bellissimo l'effetto ovviamente non è un mascara volumizzante ma allunga tantissimo sembra che le curva anche leggermente e mi piace proprio la colorazione che marrone le separa in modo superbo mi piace tantissimo spero riuscite a vedere anche voi a percepire appunto la differenza andiamo a piegare anche queste altre ciglia e poi facciamo anche la seconda passata vediamo la differenza con una passata e poi la seconda passata le ciglia mi piacciono tantissimo mi piace proprio l'effetto del mascara me le allungate tantissimo non si vede la differenza dove ho piegato le ciglia e dove non le ho piegate le ha curvate anche già di suo mi piace tantissimo e il colore pure è super super bello secondo me questo per i look anche naturali va benissimo anche solo questo mascara o anche tipo se volete non il volume ma belle le ciglia separate allungate curvate è perfetto passiamo all'ultimo step che sono le labbra per le labbra ho anche qui diversi prodottini partiamo dalla matita labbra anche questo dell'ordine di Kylie Cosmetics perché appunto si parla di questa matita qui di Kylie questo è il pack secondario ed è la lip liner colorazione 609 iced latte questa matita è perfetta per il trend che sta andando ora il latte makeup perché latte iced latte cioè latte ghiacciato ma non nel senso latte italiano ma nel senso latte americano che sarebbe un caffè latte quindi è proprio la colorazione perfetta per quel trend oltre a questa matita però abbiamo appunto tre prodotti labbra differenti e sono questi tre prodotti qui allora abbiamo due gloss che sono questi due di Melissa Tani beauty eccoli qui abbiamo colorazione grigia che slick e questa è la colorazione che è girly più rosata e ultimo prodottino labbra che abbiamo questo nuovo tinted butter balm di Kylie Cosmetics colorazione pink me apatite che è la 338 questo è il pack primario molto 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 simile a quelli di makeup be Mario io ho appunto li utilizzati nel video che vi ho già lasciato qui delle novità ve l'ho fatto appunto vedere se volete il confronto scrivetemi nei commenti allora vi voglio far vedere tutti quanti questi prodotti iniziamo da girly non vado ad applicare con la matita li vado ad applicare senza matita la cosa bella di questi pack è che sono qui soft touch e ogni tappo è unico per quanto riguarda il marmo hanno un odore mentolato e pizzicano proprio leggermente una cosa che non dà assolutamente fastidio le labbra questo qui è più rosato potete vedere il prima e il dopo già si vede che sono leggermente più rosate la cosa bella di questi gloss è che sono super super luminosi secondo me è un pelo di più questo grigio perché è un po' più freddino ed è molto molto più lucido probabilmente per questo chi lo sa ma la cosa bella appunto di questi gloss è che man mano con l'avanzare del tempo si va a settare meglio il gloss proprio sulle labbra e vi riempie tutte quante le pellicine non lo sentite assolutamente pesante non fa la pappetta e rimane tantissimo ho fatto un daily vlog su tiktok di quando siamo andati a Bari il mio ragazzo e ho utilizzato proprio questo gloss qui girly ed è durato dopo che ho mangiato anche dall'ikea cioè è una cosa assurda super super bello leggermente odora appunto mentolato ma è proprio pochissimo di pizzicore sulle labbra perché appunto ha un effetto anche rimpolpante lo andiamo a rimuovere per andare ad applicare slick mi dispiace sinceramente sprecare i prodotti in questo modo perché uno vabbè li pago due è proprio secondo me uno spreco ma appunto per farveli vedere lo faccio appunto per voi andiamo di slick come potete vedere è fredda la colorazione ma non si vede molto il grigio e questa tende anche a sbiancarvi un po' i denti io ho le labbra sempre secche quando applico questi mi va a rimpolpare tutto e mi piacciono tantissimo guardate già si vede secondo me che è più luminoso rispetto a girly e anche questo ho provato in un video singolo di tiktok andiamo a rimuovere l'ultimo prodotto così poi mi terrò i prossimi due ho rimosso anche questo gloss andiamo con la combo di Kylie partiamo dalla matita ho sempre desiderato avere questa colorazione di matita perché su di lei su di Kylie stava benissimo poi l'ho vista anche in applicazione ad altri content beauty creator la sto applicando veramente veramente male questa matita mai applicata una matita così in modo orrendo ma andiamo a provare il lip balm anche questa combo l'ho già utilizzata per uscire per andare a mangiare una pizza a fine pizza era rimasta sia la matita e matite di Kylie si sanno che sono borrose durature si sfumano per bene si fissano e anche questo mi ha veramente meravigliato perché è durato ovviamente una pizza puoi avversi la Coca Cola a mangiare il gelato però devo dire che è rimasto di questo si possono fare una passata oppure tre passate una passata è un effetto più leggero invece tre passate è un effetto proprio pieno di colore andiamo con una passata inizialmente una e una guardate qui già si è sfumato e si è fuso bene ovviamente con la matita mi piace proprio l'effetto scuro della matita è più chiaro del rossetto e rosato e andiamo a fare le altre due passate guardate qui come si è fuso ancora meglio e non l'ho sentita assolutamente pesante sono labbra super comportevoli super super luminoso e vi rimpolpa anche le labbra io ho sempre 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 le righette delle labbra perché ce le ho sempre secche e questo prodotto è fantastico e come ho già detto mi somigliano tantissimo a quelli di make up by mario questo è il make up terminato a me piace veramente veramente tanto l'unica cosa appunto che non mi fa impazzire è il correttore ma gli ombretti il mascara mi ha sconvolto il blush il contour le labbra mi piacciono veramente tantissimo l'unico prodotto appunto secondo me forse è il correttore ma per chi ha la pelle grassa secondo me va bene ovviamente vi rimetto la ripresa sia ora appena terminato il make up sia a fine giornata quindi vediamo come è esistito appunto il make up in queste ore e in queste ore di caldo ovviamente il rossetto si toglierà io ora devo ancora andare a pranzare comunque il make up mi piace tantissimo eppure la sfumatura degli ombretti è assurda ovviamente devo ancora andare a togliere un po' il residuo sporco del mascara ma sono curiosissima di vedere quanto dura detto questo spero che il video vi sia piaciuto è stato così lasciate un piccolo like iscrivetevi al canale fatemi sapere se avete provato qualche prodotto di questi o se volete qualcosa in particolare su instagram su tiktok o su qui su youtube ovviamente scrivendomi nei commenti o qui oppure su tiktok se appunto volete un video risposta a quel vostro commento ecco detto questo spero che il video vi sia piaciuto e anche il make up questo è il make up che faccio sempre ultimamente e come sempre vi ricordo il link in descrizione e anche in ordine tutti quanti i prodotti tutte le colorazioni tutte le informazioni possibili immaginabili sotto in descrizione detto questo noi ci vediamo al prossimo video baci ciao 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 ciao